Primo giorno della seconda edizione di Fallout Campus all'Università del Sud di Salerno, però da un punto di vista personale è un ritorno, segno che una manifestazione questa dà di tutto rispetto. Sì, per me è un grandissimo piacere e onore essere ritornato qui, c'è un sacco di gente bravissima, i ragazzi sono bravissimi, l'energia è molto amichevole, molto positiva, quindi io sono molto felice di essere ritornato. Anche i ragazzi sono felici perché hanno la possibilità di confrontarsi con dei veri mostri sacri del genere in questo caso, ma da questo punto di vista un consiglio da dare a loro? Non mollare mai, nemmeno nei momenti un po' più duri, perché appunto in una carriera musicale è quasi normale che si incontrino delle porte chiuse e delle frustrazioni, ma mai mollare sapendo che tutto serve a fortificare appunto la spinta che uno ha dentro, insomma, quindi mai demordere, sempre avanti, e sempre essere autocritici, semplici, mai cercare di appunto avere un ego grande che faccia dimenticare qual è la vera strada, insomma, quindi la strada della ricerca e dello studio. Grazie.